Take it easy, take it slow We can do it just like before So, take it easy, take it easy Ragazzi bentornati in questo unissimo video Io sono Cecchinato e questa notte ragazzi E' successo di tutto Infatti sono usciti E' stata praticamente lickata la season 4 Abbiamo il nome ufficiale dal sito proprio di Epic Games Fortnite Paradiso 18 settembre 2022 ovviamente è la nuova data Quindi sempre in realtà uguale della nuova stagione Quindi da quel giorno si entrerà finalmente in una season Che durerà tutto sommato poco In teoria fino al 5 dicembre Ma ragazzi sono usciti dei teaser, trailer Insomma chiamateli un po' come vi pare Della nuova stagione Che adesso andremo a vedere Quindi prima di iniziare mi raccomando Solito like se non sei ancora iscritto Iscriviti con la campanellina E ti ricordo il mio canale in descrizione ovviamente Di Telegram per il leak in anteprima Detto questo partiamo subito Quindi iniziamo subito Questa ragazzi innanzitutto è l'immagine ufficiale Della nuova season Poi andiamo a vedere ragazzi i trailer Guardate un po' qui Se infatti fate attenzione Sono usciti tutti su TikTok Guardate un po' Il pomodoro che ha preso questa ragazza Si è trasformato in un pomodoro Con la colorazione cromata Adesso non sappiamo bene cosa sia Ma è un liquido cromato Che praticamente trasforma tutti gli oggetti In questo colore qua Quindi un po' come tipo mida Che trasforma le armi in oro C'è questo liquido che trasforma Come possiamo vedere Tutti gli oggetti in questo colore cromato Che sicuramente ragazzi avrà a che fare Quasi sicuro al 100% Con la storia ovviamente di Fortnite Però per il momento non sappiamo Vedete questo liquido Guardate come si espande nel tavolo E' un po' come l'effetto di mida Poi abbiamo quest'altro trailer Che non so per come lo fa vedere così Stessa cosa Guardate cosa esce dal latte Sempre questo liquido Che guardate un po' qui poi Pam Bloccato tutto Come se fosse cemento armato Vedete questo liquido cromato Insomma Non sappiamo ancora cosa sia Ma sicuramente c'entra ragazzi Con la storia di Fortnite Per il momento non saprei dirvi Da dove proviene Chi mette questo coso Non sappiamo nulla Però guardate Questa ragazza addirittura Gli si trasformano le braccia In questo colore qua Potrebbe essere un nuovo personaggio Che tipo ha questo potere Che può trasformare le cose in cromato Liquido cromato Chiameremo così Un po' come mida Probabile Probabilmente ci sarà quindi questo personaggio Che può farlo Secondo me che ovviamente Poi sarà inerente Alla storia ragazzi Di questa nuova stagione Andiamo anche a leggere Una cosa super interessante Nel mio gruppo telegram Link mi raccomando In descrizione Guardate le nuove stringhe Cromo Consumerà tutto Cromo sarà tutto Fortnite Paradiso Che è il nome Della nuova stagione E poi sotto ancora Consumerà tutto Quindi direi che abbiamo La conferma Credo Al 100% Che abbiamo probabilmente Un personaggio Chiamato cromo Che per l'appunto Rilascia questo Insomma Colore In qualunque cosa Lui tocchi O comunque Questo liquido Che appena Va a contatto Con un oggetto Diventa letteralmente Cromato Ecco E probabilmente Quindi sarà un personaggio Come vi ho detto prima Che probabilmente Sarà anche all'interno Del pass battaglia Forse O magari rimarrà misterioso Non ne ho idea Però Sicuramente ragazzi Ci entrerà Con la prossima stagione Fatemi sapere voi invece Cosa ne pensate Voi sapere le vostre teorie Ovviamente qua sotto Nei commenti Detto questo Queste erano tutte le novità Per la nuova stagione Mi raccomando Like Iscrizione E noi ci vediamo domani Ovviamente con altre Nuovissime news In attesa del 18 settembre Che avremo la nuova stagione Bella Ciao 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 Ciao